Banegas Gol e Shiba Pararigori permettono al notaresco di espugnare il quinto Ricci di Aprilia alla fine di una gara dai due volti. Massimo Epifani schiera dal primo minuto il classe 2003 Emanuele Bana all'esordio stagionale nel ruolo di esterno d'attacco reparto completato da Dos Santos e Banegas. Assente Blando a centrocampo al suo posto Palumbo che agisce più avanti rispetto a Frulle Bianciardi, fischia degli Carpini di Sernia. La prima emozione della gara è di marca Pontina con Luciani, bravo ad accompagnare l'azione di Olivera ma la conclusione del numero 20 è deviata in angolo. Dopo il periodo di isolamento fiduciario causa a casi di positività, fatica ad arginare l'interprendenza dei padroni di casa il notaresco difficoltà iniziali che vengono confermate dalla conclusione sballata di Bianciardi prima del ventesimo i biancazzurri provano ad approfittare di questo momento e si riversano pericolosamente in avanti Coppezone dove è provvidenziale la chiusura di Gallo, bravo a non concedere la facile conclusione al centrocampista. Ancora pericolosa la squadra di Galluzzo al venticinquesimo con Bernardini bravo ad entrare in aria e mirare l'angolino ma sulla sua strada trova la deviazione sulla linea di Lattarulo. Tornato dal primo minuto titolare dopo circa cinque mesi di stop, alla mezz'ora tocca a Palumbo suonare la carica per il rosso-blu ma la conclusione dai 40 metri per questione di centimetri non beffa, prudente, colpevolmente, fuori dai pali. I laziali non si fanno però intimorire e continuano a premere sempre sul settore di sinistra grazie a Bernardini che questa volta si accentra e dal limite prova la conclusione. Murata in corner sul tramonto del primo tempo un'occasione a testa per sbloccare la gara. Prima tocca al notaresco punizione di Banegas, deviazione sul primo pallo di Dos Santos ma il suo colpo di testa finisce sul fondo. Sul capovolgimento di fronte Bernardini, il migliore dei suoi, sbuca le spalle di Sorrini ma la deviazione con la punta è presa da Shiba. Nella ripresa la musica per gli abruzzesi cambia notevolmente però prima va apprezzato il tentativo in rovesciata di Succi con la sfera che finisce fuori. Da qui in avanti gli abruzzesi iniziano il tiro a bersaglio verso la porta pontina. Al diciassettesimo tocca a Palumbo provare la conclusione verso il primo palo con la sfera fuori per questione di centimetri. Tripla occasione per i terramani al ventiseiesimo, il primo a provarci è Palumbo con la sfera ribattuta dalla difesa. Pallone che arriva sulla testa di Dos Santos che testa i riflessi di prudente, la palla arriva a Banegas che a porta spalancata calcia incredibilmente fuori ma il gol è nell'aria e arriva alla mezz'ora su calcio di rigore procurato da Mancini entrato in campo da 20 secondi. Dal dischetto è perfetta l'esecuzione di Banegas che fa 14 in campionato. Le emozioni non finiscono perché al 45esimo Cancelli mette a terra un avversario in area di rigore e Delli Carpini assegna il penalty ai padroni di casa. Dal dischetto Bosi si fa ipnotizzare da Shiba, bravo a intuire l'angolo giusto. Dopo 5 minuti di recupero fa festa il notaresco a cui giungono belle notizie dal nuovo Romagnoli di Campobasso con la vittoria della Cinzia che proietta la formazione abruzzese a due punti dai molisani prima dello scontro diretto del prossimo 1 aprile al Savini. Il primo tempo forse hanno avuto qualche occasione di più loro, però poi il secondo tempo siamo rientrati con altro piglio, abbiamo fatto quello che dovevamo fare, anzi abbiamo sprecato troppo e poi credo che abbiamo vinto meritatamente, anche se alla fine siamo stati fortunati sul calcio di rigore dove Clevis è stato bravissimo a pararlo, però credo che l'andamento della gara era nell'inerzia, l'avevamo presa noi e l'abbiamo vinta con grande merito e con grande forza mentale. Di solito il Covid toglie tanto alle squadre quando non possono scendere in campo, possiamo dire che questa volta il Covid è anche un alleato del notaresco perché Shiba non doveva esserci oggi se il Covid non vi fermava. Sì, ne parlavamo prima nello spogliatoio, sono i casi strani della vita, il ragazzo ci teneva tantissimo ad andare in nazionale e noi ci tenevamo tanto per lui perché innanzitutto solo merita per quello che sta facendo, però poi il caso ce l'ha ridato e siamo contenti oggi che ha giocato perché poi per noi Clevis in questo momento è un giocatore importante come è importante tutti gli altri della Rosa. Sì, il Covid ci ha ridato qualcosa però credo che devo sottolineare e devo fare un applauso alla società, allo staff tecnico perché in queste due settimane dove abbiamo avuto problemi di Covid siamo stati veramente bravi nel sospendere gli allenamenti, allenarci a distanza, fare allenamenti personalizzati, quindi siamo stati bravi e non abbiamo avuto altri problemi. Di questo ne siamo contenti perché è importante per il proseguo del campionato. Ecco mister, c'è la possibilità di festeggiare la Pasqua in maniera perfetta per quanto riguarda il notaresco, ci sarà questa partita dell'infrasettimanale contro il Campobasso, Campobasso che ha perso oggi in casa con Cinzia e il balone, ecco vi giocate questa partita in che modo? Come tutte le altre partite, come siamo venuti qui ad Aprilia, sicuramente è una partita bella, una partita di cartello, una partita importante ma non decisiva sia per l'una che per l'altra. Noi dobbiamo continuare a fare quello che stiamo facendo e abbiamo una partita in casa dove dobbiamo far valere il nostro fattore campo. È una partita determinante forse a livello mentale perché se la vinciamo significa fare un grande balzo in avanti, però poi ci sono ancora tante partite e vedendo i risultati, io lo predico dall'inizio dell'anno, credo che me ne devi tirare atto, che questo è un campionato molto molto difficile e puoi perdere i punti con tutti. Vedi il Campobasso oggi, vedi la partita nostra di oggi contro una squadra che secondo me merita di stare lì sopra, il Fiugi stesso che è una squadra che sta lì sotto ma è una squadra importante e quindi lo stesso Pineto, quindi è un campionato terribile. La partita di giovedì è una bella partita, determinante ma poi ci sono talmente tante insidie da qui alla fine, chi reggerà botta più di tutti fino alla fine vincerà questo campionato.